Stiamo andando tutti da Claudia. Questo vestito è di due anni fa. Paolo vuole qualcosa da bere. Hai una casa piena di quadri. Siamo usciti da quel negozio. Domani non ho nulla da fare. La porta è di nuovo chiusa. Ti ho visto da qualche parte. L'auto di tua nonna è verde. C'è una lettera per te da Parigi. Claudia ha finito di studiare. Il vaso è caduto dal balcone. Luca è stato al cinema da solo. Oggi partite col volo del luna. Stiamo tornando dalle vacanze. Quel telefono è di mio cugino. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. La testa. La testa. Il collo. Il collo. La spalla. La spalla. Il braccio. Il braccio. La schiena. La schiena. La gamba. La gamba. Il piede. Il piede. Il piede. Le dita. Le dita. Il pollice. Il pollice. L'indice. L'indice. Il medio. Il medio. L'anulare. L'anulare. Il mignolo. Il mignolo. Il polso. Il polso. Molta gente va al mare in agosto. Troppi bambini non leggono mai. Siamo troppo stanchi per uscire. Ho mangiato poca pasta a cena. La tua macchina è molto veloce. Quel libro è poco interessante. Sei stato tante volte in città. Oggi abbiamo parecchio da fare. I tuoi figli studiano sempre tanto. Loro fanno molte passeggiate. Quante camicie hai comprato? Ho visto quanti fiori hai a casa. Ha fatto molti sbagli nell'esame. Al parco ci sono tante persone. Sono molto stanco per il viaggio. Questa carne è troppo cotta. Claudia ha tanti gatti a casa. C'è poca gente in giro la notte. Voi leggete molti libri di storia. Non sai quanto sono contento. A scuola si sono iscritti in tanti. A me piace andare in bicicletta. A me piacciono le biciclette. A loro piacciono i viaggi. A voi non piacciono i gatti. A te piace molto nuotare. A lei non piace mangiare fuori. Le piacciono molto le novità. So che a voi non piace il pesce. A lui non piace scherzare. A lui non piacciono gli scherzi. A volte a noi piace festeggiare. A me non piace proprio sciare. Mi piace la cucina italiana. A me non piace andare in discoteca. A me non piace rimanere a casa. A me non piace rimanere a casa. A me non piace molto le grigliate. Non mi piacciono i concerti. A me non piace molto giocare a carte. Le piace fare spese il sabato. Non le piacciono le partite. A loro piace il gelato al limone. Quando andate a Roma? Ci andiamo domani. Vieni a trovarmi? Ci vengo domenica. Chi viene con me a teatro? Ci vengo io. Vuoi venire al mare? Ci vengo volentieri. Quando andate a fare spese? Ci andiamo alle 16. Come stai in questa città? Ci sto bene. Venite in vacanza con noi? Ci veniamo volentieri. Quanto rimani a Zurigo? Ci rimango due giorni. Quando sei andata a scuola? Ci sono andata ieri. Quando tornerai in Italia? Ci tornerò presto. Voi siete già stati qui? Ci siamo stati sabato. Devi andare dal dottore? Ci vado domani. Quanto starai in vacanza? Ci starò un mese. Chi viene a prendermi? Ci viene tuo padre. Stasera andiamo al cinema. Stasera si va al cinema. Arriviamo a casa alle 10. Si arriva a casa alle 10. Studiamo le lingue classiche. Si studiano le lingue classiche. Si fermano due giorni in città. Ci si fermano due giorni in città. Devono essere puntuali. Si deve essere puntuali. Si svegliano presto la mattina. Ci si sveglia presto la mattina. Devono fare dei compromessi. Devono essere fatti dei compromessi. Si devono fare dei compromessi. Possono essere trovate altre soluzioni. Si possono trovare altre soluzioni. devono abituarsi a questo orario. Ci si deve abituare a questo orario. Devono agire più prontamente. Si deve agire più prontamente. Zio Sì Ragazzo Ragazzi Libro Libri Gatto Gatti Figlio Figli Zia Zia Zie Ragazza Ragazze Penna Penne Figlia Figlie Casa Case Cane Cani Cellulare Cellulari Padre Padre Padri Padri Parete Pareti Madre Madri Nazione Nazioni Notte Notti Cosa 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 Casa Case Anno Anni Giorno Giorni Vestito Vestiti Gravatta Gravatte Donna Donna Donne Donna 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 Gonne Gonne Macchina Macchine Machina Chiave Chiavi Chiavi Cognome Cognomi Cognomi Giornale Giornale Giornali Nome Nomi Nomi Copione Copioni Riunione Riunione Riunioni Cordone Cordoni Mattone Mattoni Immaginiamo che loro Arrivino domani Penso che loro Finiscano di lavorare Alle sei Pensiamo che loro Partano domani Per l'Italia È probabile che lei Non capisca L'italiano Dubitiamo che voi Usciate prima delle sei Io so che lui È una brava persona È certo che Viene anche lui Alla festa È probabile che lui Non sappia dov'è la festa Bisogna che loro Lavorino di più Lui è la persona più intelligente Che io conosca Tu sei l'unica persona Che vive qui Dovunque tu vada Ci vengo anch'io Mi può dire dov'è la stazione? Mi potrebbe dire dov'è la stazione? Voglio un paio di pantaloni neri Vorrei un paio di pantaloni neri Ti va un caffè? Ti andrebbe un caffè? Dovete ascoltare i consigli Dovreste ascoltare i consigli Mi faccio un piatto di spaghetti Mi farei un piatto di spaghetti Mi passi il sale? Mi passeresti il sale? Può chiamare ancora? Potrebbe chiamare ancora? Che ne dici di uscire tutti insieme? Che ne diresti di uscire tutti insieme? Posso pagare con la carta? Potrei pagare con la carta? Rimango qui per un anno Rimarrei qui per un anno Deve stare più attenta Dovrebbe stare più attenta Sto ancora un po' a letto Starei ancora un po' a letto Vado a studiare Andrei a studiare Ci fai un favore? Ci faresti un favore? Puoi comprarci il giornale? Potresti comprarci il giornale? Con l'aereo viaggio più veloce Con l'aereo viaggerei più veloce Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti